È stato approvato nell'ultimo ufficio di presidenza la partecipazione di ACD Consum Torino all'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura e in questo non posso che esprimere vivo apprezzamento perché l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura si confà anche di questa associazione per la lotta contro il fenomeno dell'usura e il gioco d'azzardo che purtroppo da parte dell'attività criminale è alto nella nostra regione. Costituito da esponenti delle fondazioni anti-usura piemontesi, dal prefetto di Torino, dai rappresentanti delle forze dell'ordine, dalle associazioni dei consumatori e da esperti nominati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'Osservatorio presieduto dal consigliere segretario Tullio Ponzo agisce per impedire che l'usura rimanga una piaga nascosta e a tal fine svolge attività di studio e divulgazione attraverso convegni, borse di studio, pubblicazioni e una costante opera di formazione e informazione nei confronti degli studenti degli istituti scolastici del Piemonte.